Ultima chiamata per Diamond Foggia nei play-off interregionali a gironi di C-Silver. Sconfitta a sorpresa in casa di Reggio Calabria, ultima in classifica, la squadra di coach vigilante deve necessariamente vincere le prossime due gare per alimentare le aspettative di promozione diretta in Serie B. La prossima sfida è quella di domenica alle 18 al Palarusso contro la capolista Patti, che con Agropoli ha conosciuto il primo dispiacere della seconda fase. Situazione ancora più complicata per Ludas Cerignola, che fa visita al Pozzuoli in un girone dominato da Cefalù. Seconda piazza ancora accessibile, a patto di aggiudicarsi il prossimo incontro e quello successivo. In Serie D, intanto, è quasi finita l'attesa per gara 1 della finalissima Ceglie Corato. Chi si aggiudica la serie sale al piano superiore. Un epilogo che è il degno coronamento di un intero torneo che ha visto le due contendenti a giudicarsi tutti gli incontri, meno lo sconto diretto in casa dell'avversaria. Il fattore campo potrebbe dunque rivelarsi una carta in più per i brindisini, che hanno dalla propria il vantaggio di disputare in casa l'eventuale bella. Per Ceglie si tratta del secondo tentativo consecutivo di accedere in C-Silver, dopo quello andato a vuoto contro Monopoli la scorsa stagione, anche in quel caso dopo una stagione regolare da protagonista. Palla 2 alle 19, 65 biglietti messi a disposizione per i tifosi coratini. Per i tornei giovanili, occhi puntati su Under 13 e Under 18, i cui titoli regionali si stanno assegnando rispettivamente a Castellaneta e Monteroni. Domenica intanto si svolgerà a Bari il terzo Pink Day del mese. Dopo la due giorni fra Bindisi, Tuturano e Corato, toccherà al Palacus di Lungomare e Starita ospitare le giovanissime cestiste delle classi 2004-2005, in un evento che coinvolgerà i centri minibasket dell'intera regione. Una giornata divisa in due sessioni, mattutina dalle 10 alle 12 e pomeridiana dalle 15 alle 17. In programma, staffette, partite ed attività di gioco sport per premiare ed incentivare la pratica del minibasket femminile.